Inaugurato questa mattina il parcheggio d'interscambio di pianura, eretto a ridosso della fermata pianura della Circunflegrea e a poca distanza dal capolinea degli autobus che attraversano il quartiere. Sviluppato su tre piani, il parcheggio dispone di 220 posti auto e di alcune rastrelliere per le biciclette. Sarà gestito da Napoli Park e resterà aperto tutti i giorni dalle 6 del mattino a mezzanotte. I lavori per il parcheggio pianura partirono alla fine degli anni 90, in seguito la struttura fu abbandonata e poi danneggiata. I lavori di ristrutturazione sono ripartiti nel 2011 per concludersi a fine maggio di quest'anno. Un parcheggio molto importante perché d'interscambio, che è la politica che stiamo molto adottando, i parcheggi vicino alle stazioni della Seps, della metropolitana, così come abbiamo fatto col frullone, oggi qua a pianura, i lavori sono finiti poi in tempi record, in un anno il parcheggio è stato realizzato. Napoli Park praticherà tariffe leggere, un euro per quattro ore, due euro per l'intera giornata. Ma fino al 30 settembre, a scopo promozionale, il parcheggio sarà gratuito. Dopo anni e anni di lavoro e molte difficoltà il Comune di Napoli inaugura questo parcheggio che verrà gestito da Napoli Park. Qui si sono anche trasferiti alcuni uffici di Napoli Park, quelli che seguono la segnaletica e noi chiediamo ai cittadini di lasciare l'automobile nei parcheggi, diciamo, lontani dalla città e di prendere i mezzi di trasporto che riportano nel cuore della città. Mi pare che la Regione abbia concordato con il Governo un piano di risanamento delle aziende con investimenti e significherà che Eava, quindi Circo Vesuviana, Comana e Circo Flegrea saranno, come ci auguriamo, nelle condizioni di migliorare il materiale rotabile e quindi dare un servizio non a 20 o 40 minuti come è accaduto in molte giornate, ma come era prima anche a 10 minuti. Le ferrovie, così come il nostro trasporto pubblico alla linea metropolitana, sono servizi essenziali da dare ai cittadini se gli vogliamo chiedere di lasciare a casa con una certa forza la propria auto.